Abbiamo documenti storici sicuri e certi della sepoltura avvenuta il 15 luglio 1542 della Elisa Ghirardini, la prima modella della Gioconda di Leonardo ed è proprio da qui che si deve partire. Diversamente si farebbero costruzioni fantastiche e non storie archeologia. Quindi adesso stiamo entrati in quello che io chiamo nel cuore, nel momento top, nel momento più importante dove queste sepolture che probabilmente dovranno essere verificate attraverso il Carbonio XIV e l'esame istologico per darci l'età, sono del periodo benedettino, quindi rivolte con la testa dove c'era l'altare durante il periodo benedettino. Sapere personalmente, forse è più un'idea razionale mia, che in futuro chi parlerà di Monnalisa e parlerà anche degli scavi e sapere per me che anch'io ho partecipato a questo è certamente un'ottima sensazione. Grazie.